ciao a tutti amici tano tv per voi allora eccomi ancora qua pronto per stare in vostra compagnia allora inizia la nuova settimana noi adesso parliamo sempre di zengavò ultimo giorno a milano e poi pronti per partire in vacanza e si è i nostri fidanzatini più seguiti di italia sono pronti per andare in sicilia sono molto felici sono molto contenti porteranno con loro anche il piccolo pinu e ci porteranno anche a noi perché registreranno delle cose con il loro cellulare e poi le metteranno nelle storie di instagram e allora naturalmente il video è pronto e adesso ve lo voglio fare vedere oh 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 oh